Serviranno ulteriori indagini per stabilire le cause della morte di Simone Di Gregorio. Il 35enne che lo scorso 13 agosto a San Buceto di San Giovanni Tiatino è stato fermato mentre era in stato di particolare agitazione a ridosso della ferrovia immobilizzato dai carabinieri con il taser. Impulsi elettrici che sembrerebbero non essere al centro delle cause della morte del ragazzo. La vicenda comunque ha riacceso la discussione attorno all'utilizzo del taser da parte delle forze di polizia. Il SAP, sindacato autonomo di polizia, non ha reta di un centimetro rispetto alla volontà di alcuni di vietare l'utilizzo dell'apparecchio ad impulsi elettrici. Questo è un discorso più largo che di certo non dovrebbe coinvolgere l'utilizzo di questo strumento che è uno strumento testato. laddove c'era una via di mezzo, uno strumento nella via di mezzo tra l'utilizzo delle mani, quindi una colluttazione e l'utilizzo dell'arma di ordinanza adesso noi abbiamo questo nuovo strumento che tra l'altro è utilizzato dalle forze di polizia di tutto il mondo da molto molto tempo. Esistono poi, voglio dire, dei protocolli ben precisi, quindi è inutile stare sempre a polemizzare quando ci sono degli eventi purtroppo infausti come quello accaduto a San Giovanni Tiatino. Queste polemiche sono sterili e sono prodotte per lo più da quello che noi abbiamo sempre chiamato il partito dell'antipolizia, ovvero da un preciso schieramento politico che tende a strumentalizzare ogni evento per mettere in difficoltà semplicemente gli operatori delle forze di polizia che, lo dico col cuore, non hanno alcun tipo di sollievo a utilizzare gli strumenti in dotazione. Non credo che i carabinieri intervenuti non siano stati toccati da questo evento, dalla morte di questo ragazzo, di questo 35enne.